Anche la procura di Roma, dopo quella di Bari, ha aperto un fascicolo sulle ferrovie sud-est. È la conseguenza dell'esposto consegnato dal ministro Graziano del Rio. Il procuratore Giuseppe Pignatone ha convocato come testimone il commissario Viero. L'apertura dell'inchiesta è al momento senza indagati ed è definita un atto dovuto. La Capitale potrebbe indagare sugli omessi controlli da parte delle strutture ministeriali. Nel frattempo la procura di Bari continua ad approfondire i contenuti della relazione di Viero per verificare le ipotesi di peculato, abuso d'ufficio e truffa a carico dell'ex amministratore unico Luigi Fiorillo per 23 anni alla guida dell'azienda e altre 13 persone tra ex consulenti e dirigenti dell'azienda. Il nucleo di polizia tributaria della finanza di Bari sta acquisendo documentazione su spese, collaborazioni e sulle società che negli ultimi anni della gestione Fiorillo hanno beneficiato degli appalti milionari, società che sono riconducibili agli stessi soggetti.